Buongiorno, sono il dottor Bustreo Mario della CUN e sto per presentarvi ora il progetto che la CUN fa per il discorso Efficient Feeding in Italia. Siamo nell'azienda Bianchini a Lodi, caviaga per la precisione, dove presentiamo in una giornata dimostrativa le macchine per l'allevamento e le nostre intenzioni per arrivare a un più profondo e preciso impegno nel mercato italiano di queste macchine. Allora, alle mie spalle potete vedere le macchine più importanti che sono i Semo 20, costruiti dalla CUN in Francia per il mercato mondiale. Sono macchine molto importanti perché in un allevamento moderno riescono a rendere molto efficiente la capacità di fare la razione e di renderla disponibile per gli animali. La gamma delle macchine Semo 20 va dai 10 ai 25 metri cubi, qua abbiamo un 12 e un 22 metri cubi alle mie spalle e poi abbiamo tutto un sistema di impagliatrici per l'allevamento lo stesso e la lettiera permanente che sono dall'altro lato dell'allevamento e oggi andiamo a dimostrare la loro funzionalità, questo per distribuire la paglia e per rendere poi il discorso gestione dell'allevamento molto valido. A questo punto, visto che l'azienda CUN ha interesse a entrare in questo tipo di mercato in Italia come con le altre attrezzature in cui è già affermata come leader e vogliamo continuare a essere leader, ringrazio tutti per la partecipazione e aspetto poi che la prova si dimostri all'altezza del valore della CUN come azienda. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.